Eravamo alla Magione, c'erano i ragazzini del quartiere, i bambini del quartiere che ci chiedevano le bandiere d'Arcicchè perché sono belle e colorate. Si facevano i giri con queste bandiere in tutta la piazza che erano nel prato, che erano bellissimi da vedere. E ci avevano chiesto, ah ma che cosa state facendo? Il Pride, anche la festa dei froci, tranquilli. A un certo punto praticamente vedono che arriva una macchina della Polizia Comunale, si fermano e un vigile viene a parlare con noi. Nello specifico Beccomè, comunque insomma erano nel gruppetto. E arriva una bambina, arriva una bambina di queste appunto che ci avevano più o meno rubacchiato o chiesto bandiere e palloncini. Arriva, si mette tipo tra il vigile e me e mi fa, ma lo volete capire che ai froci sono cristiani come tutte l'Avotre? Grazie.